5.000 test fai da te pronti per essere sperimentati in Veneto, quel Veneto che resta giallo, compresso tra due regioni vicine di casa, che si tingono invece di Arrancione. L'RT, sceso ad 1,29, un'ordinanza restrittiva ed un impatto ancora basso nella gestione sanitaria, per quanto complicata, sono i requisiti che mantengono la posizione. Penso che debba essere riconosciuto il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna, che hanno condiviso con noi anche il tema dell'ordinanza e tutto, che a questo punto salta per loro, sicuramente la volontà di essere sul pezzo. Per noi cosa succede? Succede che è valida l'ordinanza nostra, ricordo che la nostra ordinanza prevede fondamentalmente degli aspetti che consideriamo cruciali e se dovessimo fare l'estrema sintesi dell'ordinanza dovrai dire che questa ordinanza invita a non andare a creare assembramenti. Fondamentalmente ti dice, se vuoi passeggiare, farti la passeggiata, fatti l'attività motoria, non andare in centro, non andare a ingolfare le piazze, non andare a ingolfare i viali principali, vai da altre parti. Non veniteci a chiedere dove, li trovate da soli i posti, che adesso non facciamo, che non debba fare la cartina dei percorsi Covid. Io dico semplicemente che qui c'è da parte di tutti la necessità di metterci impegno. Vi ricordo che dietro all'angolo c'è sempre la zona arancione, quanto meno. Anche se il nostro R con T è andato a 1,29, vi ricordo che dietro all'angolo c'è sempre la zona arancione, se non anche quella rossa, ma basterebbe andare all'arancione per far capire a chi non vuole fare sacrifici che a quel punto sarà chiuso nel confine comunale. Zaia ci tiene anche a fare delle precisazioni sulla proprietà dei ricoveri. Nessuna volontà di dimettere prima del tempo i pazienti, come riportato da un quotidiano nazionale che ha ricostruito i passaggi di una verifica su 200 malati in corsia asintomatici o pauci sintomatici. Il dottor Rosi, che è responsabile della gestione delle terapie intensive, in una videoconferenza qualche giorno fa c'è molto scambio di informazioni. Dice, guardate, nei dati emerge che ci sono tra tutti i nostri pazienti 200 pazienti positivi asintomatici ricoverati. Ha detto, onestamente non so dirvi, ci sarà una motivazione, però io ho detto, ma fate una verifica su ogni ulce, ci può essere anche qualche ricovero, come si può dire, che ha anche valore sociale, no? Figuratevi. La verifica è stata fatta, sono pazienti sostanzialmente, nella stragrande maggioranza dei casi, che sono catalogati come Covid positivi, ma sono in ospedale perché hanno altre patologie. Cioè, noi abbiamo dei pazienti che dovevano essere sottoposti alla protesi dell'anca, che si sono rivelati positivi e ce li abbiamo tra i positivi asintomatici. O oncologici, abbiamo tanti oncologici con la stessa classificazione. Da qui a dire che noi diamo ordine a svuotare gli ospedali, cioè ragazzi, ma in questo momento non abbiamo dato nessun ordine, anzi abbiamo l'obbligo di controllare.